Siamo ritornati per un altro invito importante del nostro stilista amico Luigi Auletta Imperio Couture, insomma sempre belle sorprese e ti trovo sempre una forma straordinaria, soprattutto amici di Weekendex, guardate le t-shirt in pelo, rigorosamente azzurra quella del presidente, rigorosamente bianca la mia. Sì, tu sei bianco candido quindi puro, puro al 100%, io in onore anche da sportivo, perché sono sportivo, sono tifosissimo del nostro Magico Napoli, sperando che sia anche un anno bellissimo, abbiamo fatto una collezione men meravigliosa, quindi chissà che anche possiamo toccare tutta la parte anche del pubblico che segue il calcio Napoli. Di fede azzurra. Sicuramente ci sono anche tanti colori interessanti, come vedi, ci siamo avvicinati con uno sposo che va anche in tendenza con colori nuovissimi come l'anice, un colore molto bello, quindi l'anno 2023 si prospetta ricco di novità, grande stile e sicuramente ci saranno tante novità sia nel mondo maschile che nel mondo femminile. Anche perché il nostro amico Luigi non sta mai fermo, gira sempre il mondo, sempre per novità, sempre per dare il meglio con i colori, con lo stile, lo stile impero, quindi uomo, donna, cerimonie, è quella la missione che continua sempre ad andare avanti. Assolutamente, tanto è vero che sia in videocall che in chat ci siamo risentiti fortunatamente con Catherine Kelly Lang, dico fortunatamente perché ultimamente aveva avuto un piccolo incidente a cavallo, lo sappiamo un po' tutti, aveva avuto una frattura abbastanza importante, si è ristabilita, quindi in piena forma. C'è grande probabilità che Catherine Kelly Lang ritorni a settembre insieme ad Hop, che nella swap è sua figlia, probabile che ci sarà anche, stiamo lavorando su questo, Rosalinda, quindi vedremo questo trio di donne e sicuramente sarà una campagna magica quella firmata in Perocuture perché regaleremo tante novità sotto l'aspetto stilistico, ritornerà una grande donna, quindi Catherine Kelly Lang in arte Brooke, la madrina assoluta per il mondo impero, quindi la mamma, la prima invitata e avremo anche due figure più giovani che sono per l'appunto la Hop della swap per l'appunto di Beautiful e abbiamo la nostra brand ambassador, Rosalinda Cannavoli. Insomma, racchiude un po' tutto il mondo, tutta la sfera femminile. Sì, tutta la sfera femminile, sicuramente sveleremo più avanti anche chi sarà il volto per rappresentare il nostro mondo uomo maschile, quindi sia spuso che cerimonia ed invitato. Ci sono tantissimi progetti, quindi l'impero non delude mai e accompagnato con Weekend Dance realizzeranno sempre grandi progetti. Abbiamo belle sorprese e ho una sorpresa per te oggi perché l'impero di cultura è anche main sponsor del concorso Ragazze Weekend Dance che da poco abbiamo terminato il decennale e la vincitrice Lara Castaldi, modella ventenne bellissima, indossa un capo impero, quindi tra poco lo commenterà insieme a lei. Assolutamente, gli ho dato un capo di punta della Maison per quanto riguarda il mondo sia young che giovanissime, un capo che ha dei particolari e li vedremo per l'appunto subito dopo indossato con delle Nerviou si chiamano, quindi una lavorazione particolare su questa payette bellissima ma non voglio svelare troppo perché poi lo vedremo indossato e ne apprezzeremo sia lo stile che il colore. Stiamo vedendo le collezioni per l'appunto 2023 indossate da una delle nostre modelle, sicuramente gli abiti sono tanto diversi, ci sono delle bellissime tute con dei colori molto molto interessanti perché la stagione nuova porta anche tante cromie nuove. Nel mondo impero c'è spazio sia per tanti piani taglia importanti che per tanti gusti e tante femminilità diverse. Eccoci Lara, allora questa esperienza credo che sia stata veramente molto bella per te perché ho visto il tuo viso molto molto luminoso ma soprattutto ti vedo molto shining, hai fatto una scelta bellissima, un abito strepitoso, colore meraviglioso e speriamo soprattutto che ti porti tanta fortuna. Sì, speriamo, ma merito tuo, merito vostro, del vostro impero, ora ci vuole abiti stupendici, è stato l'imbarazzo della scelta, però alla fine sono tutti belli. Ho visto che hai fatto una scelta molto attenta anche perché nella vestibilità ti accarezza il corpo, nella tua fisicità che è perfetta, perché è un fisico bellissimo e soprattutto per vincere il Weekend Dance sicuramente avrai avuto tutte le caratteristiche perfette per portare questo brand alla ribalta. Grazie, grazie, ma mi ha aiutato anche molto il tuo abito, è il tuo abito verde smeraldo favoloso, bellissimo. Sono contento che ti abbia portato fortuna e spero che con questo meraviglioso abito invece si possono aprire tantissime prospettive per te, soprattutto un percorso ricco di studi ma anche ricco di tante cose belle, quello che il tuo cuore desidera. Certo, certo, lo spero anch'io, lo spero tanto. Quindi invitiamo tutti quanti a visionare le collezioni di Impero Couture. Bravissima, quindi il 2023 sarà ricco di sorprese, ricco di colore e ricco di bellezza. Quindi nel mondo Impero non mancherà niente, vi aspettiamo numerosi nei nostri eventi, e negli nostri store un po' in tutta Italia, sia dai nostri rivenditori che nel nostro flagship store di Teverola Store che è sito in Teverola per l'appunto. Vi aspettiamo numerosi a Teverola, sicuramente con la classe, la femminilità e la bellezza il mondo Impero aspetta tutti quanti voi.